Mi chiedono 3 euro di un ghiacciolo a Savelletri in Puglia. Nel momento ho capito che l'euro è una merda, perché se per le cose grandi una casa o una macchina costano come prima, una bottiglia d'acqua minerale, un caffè, un panino, un ghiacciolo costavano a me, giovane, 500 lire. Costano oggi 3.000 lire, 4.000 lire. Io ogni giorno esco, metti uno se guadagna 100 euro al mese, che è molto al giorno, che è molto, 100 euro. 30 li spende senza accorgersi. Tra il caffè, le sigarette, la mancia. Prova a dare la mancia a uno di 0,50 centesimi. Ti sputa dietro, devi dargli 2 euro, 4.000 lire. Ma che cazzo è? Che mondo è? Quello in cui io devo dare 4.000 lire di mancia? Non voglio né l'euro né pagare le tasse per dare i soldi a quelli lì. Non pago una lira per dare i soldi alla consulta.